Signore e signori, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi torniamo in via eccezionale su Minecraft per fare un tour del mio mondo e in particolare un tour del mio mondo che è diventato una specie di museo, ma ora cercherò di spiegarvi meglio. Questo qui è il mondo della mia quinta stagione che ho portato avanti per qualche mese su Sury Was Taken, che è il mio canale in inglese e oggi non sono qui a farvi un vero e proprio tour del mondo, ma sono qui a mostrarvi delle opere d'arte che ho inserito all'interno del mio file di Minecraft. Per la precisione, quasi un annetto fa, ho conosciuto a Venezia Jan Wormann, che è un artista internazionale. Fammi anche levar le shaders al volo. Ci siamo conosciuti a Venezia, abbiamo fatto amicizia e qualche mese dopo ci siamo risentiti perché mi ha proposto un progetto. Mi ha detto, senti, sai cosa? Mi piacerebbe regalarti un'opera d'arte e quindi mi ha regalato questo qui. Sono quattro file che ho messo come immagine all'interno del mondo e si tratta di quello che Jan fa di solito in giro per il mondo, o perlomeno uno dei suoi progetti, cioè inserire l'ego all'interno delle mura. Sono passati altri mesetti e Jan mi dice, ma sai cosa? Io ho alcuni amici che sarebbero interessati a mettere anche le loro opere nel tuo mondo di Minecraft. E un po' a caso, sinceramente, si è creato un gruppo di nove artisti da tutto il mondo che hanno deciso di partecipare a una specie di esposizione virtuale, un'occupazione del suolo pubblico in Minecraft con le loro opere. E quindi oggi andremo a vederle. Come vedete, ci sono delle persone all'interno del mio mondo perché ho già messo il posto di Instagram, quindi qualcuno è già logato, alcuni stanno già morendo, insomma. Il server è pubblico, vi lascerò il link in descrizione. Allora, non solo Jan è molto forte nel mondo dell'arte, ma conosce tante persone altrettanto forti, se non anche più forti. Sono dei nomi talmente conosciuti che alcuni musei hanno preso il mio mondo di Minecraft e ci hanno fatto dei tour all'interno. Cioè, roba pazzesca se me lo chiedete. Proprio ieri a Shanghai c'è una galleria o un museo d'arte che ha utilizzato il mio mondo per fare un evento proprio fisico dentro il museo a Shanghai, cioè non dietro l'angolo. Questo che vedete qui è una delle nove opere che sono presenti nel mondo ed è stata realizzata da Vils, che è uno studio, un artista però ha tutto uno studio dietro, portoghese, molto famoso. Cioè, su Instagram se non sbaglio ho una cosa tipo 500.000 follower. E qui l'idea è un vedo non vedo di un occhio. Questo è un occhio all'interno del cubo, su tutte le facce ci sono degli occhi e poi come vedete è stato distrutto. Quindi io prima l'ho costruito e poi l'abbiamo distrutto con della TNT. Quindi se andate sul cane in inglese ci sono anche tutti i vari video. Molto molto bellino. In realtà appena uno logga nel server si trova davanti questa mappa con tutti i punti dei vari artisti. Vedete ci sono dei bannerini che mostrano dove sono i vari artisti. Noi abbiamo appena visto Vils, come vedete è bello grandino. C'era un altro bello grande lì in cima, che è Ed Fuel, ma ora ci andiamo. Io direi partiamo dal più vicino, cioè Brad. Brad Downey è un artista americano, quindi per ora abbiamo Vils, che è portoghese. Abbiamo Brad, che è statunitense, che ha riproposto in versione Minecraft una scultura che lui ha realizzato, se non sbaglio in Bulgaria, qua l'abbiamo scritto ma non mi ricordo, in Slovenia, scherzavo. In Slovenia lui si è ritrovato con un tronco e l'ha modellato facendo le forme, le sembianze di Melania Trump. È una cosa che ha preso molta attrazione mediatica e ha deciso di riproporla anche qui in Minecraft. Se cercate su Google Brad Downey Melania trovate proprio le immagini della sua scultura, che tra l'altro poi è stata bruciata e l'hanno dovuta rifare, l'ha fatta in bronzo in rame, non mi ricordo. È la cosa davvero divertentissima, signori, che purtroppo ho fatto solo uno screen. A una certa, mentre costruivamo il server, è arrivato un temporale in Minecraft e un tuono ha distrutto la statua di Brad, quindi come nella vita reale, anche qui purtroppo ha preso fuoco. E quando loggerete nel server ci sono anche dei QR code che collegano ai vari servizi e alla statua vera, ci sono tutti i materiali che potete accedere tramite QR code. Proseguiamo, vediamo che c'è gente che sta esplorando il mondo. Proseguiamo, perché da questa parte abbiamo invece Yasu. Yasu è un'artista coreana e lei nel 2015, se non sbaglio, vediamo se anche qui abbiamo messo le scritte... Sì, 2015. Allora, qua dentro ci sono delle foto che vi raccontano un attimino la situazione. C'era questo quartiere in Corea del Sud che stava per essere abbattuto e dentro questo quartiere c'erano tantissime costruzioni con l'architettura classica, tradizionale della Corea del Sud. Allora, come protesta, vedete, dietro era tutto macerie. Il giorno prima della sua demolizione Yasu è andata in questa casa e ha utilizzato una tecnica tradizionale coreana che è il thumbprint, quindi stampa col pollice e questo è quello che ha fatto. Con il suo pollice, con le sue dita, ha ricoperto la casa di impronte e come vedete la casa non era propriamente piccolina e l'abbiamo riprodotta anche qui in Minecraft. Se andiamo a vedere da vicino, queste sono le foto originali della Corea del Sud scannerizzate e messe su Minecraft. E questa è una ricostruzione della casa che lei ha provato a salvare con questa opera d'arte che è stata demolita il giorno dopo. Quindi in realtà sono tutte cose molto iconiche. Infatti ancora ci penso e dico cacchio, ma che figata. Yasu è dalla Corea, quindi abbiamo coperto già tre paesi, attenzione, ma torniamo al volo negli Stati Uniti perché abbiamo qui una persona che in realtà è molto molto famosa, che io non conoscevo, ma che è un nome molto importante nel settore, che è John Fechner. Stiamo parlando di artisti del mondo della street art. In questo caso diciamo che John è di un paio di generazioni più avanti, ma nel settore mi hanno di riferito che è tipo una leggenda. E con lui abbiamo deciso di inserire dei graffiti all'interno di Minecraft. Qui abbiamo messo all'ingresso del villaggio questo cartello con uno dei messaggi che lui ha voluto passare. Ne abbiamo inseriti altri vicino la mia casa, anzi proprio sulla mia casa. C'è questo che è molto carino, Slow Down Children Growing. Di certo si dice a rallentare, ci sono dei bambini nelle vicinanze quando ci sono delle scuole. In questo caso dice rallentare. Questo potrebbe avere diverse interpretazioni, dipende anche da cosa pensate che quello sia, però ovviamente a vostra discrezione. Abbiamo messo un altro qui, Life is a book, take your time to read it. Molto carino, anche questo mi piace, ma forse il mio preferito di John è quello che abbiamo inserito qui dentro nella montagna. Cioè uno a caso esplorando il mondo, ora se state vedendo questo video lo sapete, però uno magari esplorando il mondo si ritrovava all'interno di questa rivina e si ritrovava qui un bellissimo graffito che dice leggi. E questi sono tutti i pannelli in realtà che sono bloccati con delle barriere per evitare casini, che sono messi all'interno di item frame e tramite un comando viene assurriato il tutto finché sembra un blocco vero e proprio, molto molto bello. E questo era John e siamo tornati al volo negli Stati Uniti. Già che siamo qui facciamo un saltino in Italia, Italia-Austria in realtà, perché abbiamo Esther. Esther che ha realizzato questa opera qui, è un'opera spaziale quindi che gioca con la percezione. Abbiamo fuori un blocco, un blocco monocolore, come vedete tutto arancione, che però all'interno poi si ritrova con tutto un gioco di chiaro scuro, bianco e nero. All'inizio volevamo provare a fare un qualcosa di effettivamente spaziale, quindi utilizzare ad esempio le ROD in varie, diciamo, posizioni, però purtroppo non è stato semplicissimo. Abbiamo optato per questa versione che devo dire è molto figa. Questo è un po' il contesto tra apparenza e realtà. Fuori un cubo tutto arancione, dentro una varietà di texture e spazialità. Ed Esther è l'unica artista italiana che ha partecipato al progetto. Da questa parte invece abbiamo Michael, che se non erro viene dalla Norvegia, potrei sbagliarmi ma è un paese nordico, che come vedete ha provato a riprodurre una delle sue opere che ha realizzato una vita reale, cioè un agglomerato di blocchi. In questo caso abbiamo caricato anche delle texture di container e il tutto è condito da un drop, quindi non so chi se lo ricorda ma tanti anni fa andavano di moda i drop e qui dentro abbiamo tutta una serie di texture che va in base ai colori. Quindi seguiamo una scala cromatica e poi abbiamo in fondo tutti i blocchi diversi, di diverso tipo e anche container diversi, fino arrivare al blu che poi ci porta a un tunnel da cui poi possiamo risalire. Scendiamo verso paesi più caldi perché dalla Spagna c'è Octavi. Octavi che ha fatto un'opera, ha realizzato un'opera il cui claim è quello del punto di vista. Minecraft è un gioco fatto di cubi, in base al punto di vista da cui guardi qualcosa cambia tutto. Se lo guardi da lontano sembra avere senso, più ti avvicini più vedi che tutto è formato da piccoli blocchi. Quindi diciamo che è una specie di analisi su questo aspetto del gioco e l'ha fatto simulando quelle che sono le cartelle quando uno va a fare le visite oculistiche. Bella per Octavi. Prima di allontanarci diamo un'occhiata invece al Dispatch Work che è per l'appunto l'opera che fa Jan in giro per il mondo, a cui ho partecipato anch'io a Venezia che è stato molto figo, cioè di riparare le mura ma gli edifici in generale con i Lego. E qui abbiamo simulato una parete di pietra mezza distrutta in cui all'interno come vedete ci sono tutta una serie di cose. Alcuni di questi sono stati girati, non so se è stato fatto apposta da Ian oppure no. Questa dovrebbe essere dritta così, esatto. E ora chiudiamo tutto, via. L'ingresso in una caverna, come vedete tutti i tipi diversi di Lego. Lì c'è la versione mini di tutto questo, è molto molto bello e dal vivo ovviamente ha tutto un altro effetto, ma anche Minecraft ha il suo perché Jan è un artista tedesco al momento però vive in Cile, quindi davvero stiamo spaziando quasi tutti i paesi del mondo. Ultimo ma non meno importante, è semplicemente un po' fuori dal villaggio perché ha bisogno di tanto spazio, abbiamo Ed Fuel, un artista portoghese che fa tutte le lavorazioni con i pattern delle mattonelle portoghesi, passatemi il termine non è preciso, so che c'è un termine preciso ma non me lo ricordo. E abbiamo realizzato come per Wills una specie di cubo enorme, in questo caso proprio tutto 3D, con tantissimi blocchi diversi. Il nome è The Foreign Observer, quindi diciamo l'osservatore straniero, l'alieno possiamo dire. E questo è molto bello, con le shaders fa la sua porca figura, ho caricato un post su Instagram in cui si vedono tutte queste opere con le shaders e sono spaziali e sotto abbiamo anche quello che vi dicevo, cioè le mattonelle, i pattern con cui lui di solito lavora, che sono molto belle, infatti avevo una mezza idea di chiedergli una collab anche tipo per arrivare a una casa, però insomma, altra storia. Ed è una cosa questa che è nata per caso, per gioco sicuramente, non c'erano tante aspettative, ma ci sono tantissime istituzioni in tutto il mondo che grazie ai vari nomi che hanno partecipato a questa esibizione, gli hanno dato abbastanza importanza. Come vi dicevo all'inizio del video a Shanghai hanno fatto un evento privato per vedere questo mondo, quindi mi immagino, cioè fa un po', immaginate che in questa galleria a Shanghai aprono le porte, entri, ti siedi e poi c'è un computer e c'è la gente che gira nel mio mondo. Non lo so, mi faceva un po' a sorridere questa cosa. Per non parlare del Total Museum in Corea, a Seoul, anche loro sono stati super disponibili, hanno fatto dei tour privati, quindi c'è gente del museo che entra e raccoglie persone della loro community per vedere il mondo di Minecraft con le varie opere. Fantastica, c'è una cosa davvero fantastica. Il Pushkin Museum a Mosca, diverse gallerie anche a Parigi, Londra. In Italia ci siamo sentiti con il Guggenheim, quindi c'è stato davvero un supporto incredibile. Da oggi il server è online, quindi potete entrare. Non ci sono troppi plugin né nulla, è un server di base vanilla, perché la scelta è stata questa, di lasciare il server più tranquillo possibile. Tu entri, sei in adventure mode e puoi girare come meglio credi, quindi attenti a non infilarvi in punti in cui poi non potete uscirne, perché non ci sono admin, è tutto molto esperienziale. Tu entri e fai un giro. Ne parlavo con Jan e l'idea sarebbe in futuro di addirittura lasciare il server senza controlli. Quindi tutti hanno accesso alle game mode, alle cose, farlo diventare una specie di anarchi server. Ok, da capire, da capire. Avevo interpellato anche una persona, un consulente, al fare una valutazione del mondo. Mi piacerebbe sapere quanto vale un mondo di Minecraft fatto in questo modo, non tanto perché l'ho fatto io, ma perché i nomi dietro questa esposizione sono dei nomi molto famosi. Avevo trovato una persona, mi aveva chiesto tipo 2000 euro per fare la valutazione, ho detto sai cosa, anche no, però sono sicuro che con questo video qualcuno potrà raccogliere informazioni sugli artisti e magari fare una valutazione, oppure contattarmi, trovate l'email comunque in descrizione. E mi piacerebbe fare un video proprio su quell'aspetto, cioè su quanto potrebbe valere una cosa di questo tipo. Non perché vogliamo venderla, ma come concezione. E questo è quanto, signori. Era da un botto che non facciamo un video su Minecraft, su questo canale soprattutto. Sapete com'è che si dice che chi gioca a Minecraft non smette mai, prende solo delle lunghe pause e io mi ritrovo in questa citazione. Spero che questo progetto vi sia piaciuto, sono degli artisti davvero fortissimi con cui mi sono trovato davvero bene, è stata un'esperienza fantastica, anche solo mettermi a disposizione per costruire queste cose e per coordinare tutto il progetto insieme a Yann e Bred. Vi lascio in descrizione con il sito con tutte le informazioni, dove ci sarà anche l'IP per fare il login. Nel caso voleste esplorare questo mondo, io vi invito a farlo. Vi invito anche a dare un'occhiata ai vari artisti. Per questo, perché ho un cappellino? Ah, è Halloween. Per questo video è tutto, io vi saluto, ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi contenuti. Ciao a turuturu tutti.